buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove in direzione firenze si segnalano code per traffico intenso tra pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra firenze nord e peretola in a1 in direzione roma code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e firenze scandici code in uscita a firenze scandici provenendo da entrambe le direzioni spostandoci sulla fipli 4 chilometri di coda per un veicolo fermo già rimosso tra cascina e pisa nord est in direzione pisa 2 chilometri di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 13 e 700 tra la strassigna e ginestra fiorentina in direzione livorno code in uscita a santa croce sull'arno provenendo da firenze rallentamenti tra ginestra fiorentina e firenze scandici e verso firenze ed è tutto buon viaggio grazie a tutti